Allora, a gennaio non doveva nascere più nessun bambino qui all'ospedale di Sapri, invece questa mattina è una bellissima notizia. Infatti, il 31 a sera abbiamo avuto due nuove nascite, una con taglio cesareo, l'altra è stata se è trattata di gravidanza di parto spontaneo e oggi abbiamo avuto la notizia, il primo nato all'ospedale di Sapri ci rende felici, è tutto andato bene ovviamente avremmo voluto che fosse il primo nato nella provincia di Salerno nel 2019, però va bene lo stesso, siamo contenti adesso a parte le note scaramantiche, ma iniziamo bene l'anno. Devo dire che ci sono state anche altre novità positive per l'ospedale sono arrivati altri medici, sono arrivati altri infermieri, ci hanno pubblicato da Salerno delle ore di specialistica per il territorio in particolare nelle branche di reumatologia, neurologia, pneumologia ed oculistica, quindi andiamo a potenziare anche il territorio in modo che possa da essere da fungere da filtro rispetto all'assistenza complessiva sul territorio, ci hanno finanziato un progetto di 6 milioni di euro per l'adeguamento antirismico e questo ci consentirà di rinnovare un monoblocco dell'ospedale in particolare sale operatori, pronto soccorso, radiologia, tanatologia. L'anno si apre bene. Adesso dobbiamo solo aspettare che il Comitato percorso nascita nazionale si unisca di nuovo. Abbiamo messo in un appunto le relazioni che vanno a sancire dei principi abbiamo verificato che come tempi di percorrenza rispetto ad altri punti nascita, faccio un esempio Casaletto Spartano rispetto ai punti nascita messi come alternativa, mi riferisco Lago Negro, Vallo e Agropoli, abbiamo distanze in condizioni disagiate vedi neve o vedi anche traffico intenso, per cui da Casaletto Spartano, faccio un esempio, per arrivare a Vallo ci vorrebbero 93 minuti. Consideriamo anche il tempo che eventualmente fosse chiamata l'ambulanza 118, il tempo dell'arrivo dell'ambulanza a domicilio e il tempo di trasferimento presso un ospedale di questo tipo, capite che non è assolutamente percorribile in un'ipotesi di questo tipo per cui è assolutamente impossibile che ritengo, almeno fino a quando sarò qui a dirigere questa struttura che il punto nascito di questo PO possa chiudere.